Il consigliere comunale MPA Giovanni Bennardo interviene in seguito all'intervista rilasciata dall'assessore del suo partito Angelo Messinese che da sindaco facente funzioni nel Tg dello scorso 10 febbraio aveva invitato cittadini e consiglieri comunali a non gettare più rifiuti in Eternit in giro per il paese. Io invito invece i cittadini, invito i consiglieri, invito tutti a cercare di non buttare i rifiuti di questo genere nei vari posti del nostro paese. C'è da ridere veramente, io dico semplicemente una cosa, non è che io sono uno dei consiglieri e vengo qua a dimostrare che non sono io e tutti gli altri consiglieri lo sono. Qua c'è una differenza, di base a differenza c'è semplicemente una cosa, che il nostro caro vice sindaco non sa neanche quello che dice, ma se c'è qualche persona che realmente non sa cosa significa buttare una vasca di Eternetti di Amianto, segnalarlo da sei mesi, sette mesi a questa parte. Il signor vice sindaco dice che l'abbiamo colto in castagna dopo sei, sette mesi. Caro vice sindaco, c'è chi ci sguazza in queste vaschette che noi abbiamo in tutti gli angoli delle strade di Favara, a sguazzarsi la faccia, è incominciato a capire il bisogno veramente, realmente che c'è a Favara. C'è una vergogna, questa è vergogna. Nella stessa intervista il consigliere risponde anche ad un'altra dichiarazione rilasciata sempre da Messinese lo scorso 10 febbraio, a seguito delle segnalazioni di alcuni consiglieri comunali. Siamo pronti e siamo sereni per la risposta. Abbiamo ben visto, sappiamo tutti, quali sono i problemi che affliggono questa nostra città. I consiglieri comunali lo sanno come lo sappiamo noi, loro l'hanno visto, è come buttare fango nella propria città. E poi viene a dire pure che i buchi, lo sa pure che noi buttiamo fango a recriminare i buchi, i cittadini principalmente ed io pure. Avevo lanciato un messaggio in una dichiarazione che oggi bisogna trovare un ballo nuovo, perché i buchi buchi oggi non si possono dire più. Ora c'è il ballo del qua qua. Mi rifaccio a dire che il fango è già in città, ce l'abbiamo, è in abbondanza. Il nostro dovere caro vice sindaco è, perché noi abbiamo mandato ben preciso, a segnalarle queste cose. Non è che il fango lo portiamo noi a segnalare che tu te la prendi come amministrazione al rimprovero. E così sensibile sei. Buttare fango all'amministrazione non è questo. E non pensiamo realmente alla mattina quando si ci alza la gente che ha bisogno di mettere un piatto di pasta a casa a tavolino, perché queste sono veramente le altre cose che ti toccano. Caro vice sindaco, cara amministrazione, cerchiamo di arrivare al rilancio, che sia un rilancio realmente per poter portare avanti questa città, perché questa città ad oggi è mezzo fango.